Un attore recita nel momento in cui riesce a creare un ponte di collegamento e qua ovviamente sto citando Mario Ehi Mario Mario Sì? Senti, avevo una cosa da chiederti Perché non si ha l'addio a celibato di Dario, Marco? Avevo una cosa da chiederti Dimmi Hai per caso visto la mia dignità? Eh Mario? Hai per caso visto la mia cazzo dignità Mario? Ma che intendi? Mario dov'è? Mario dov'è la mia dignità? Ma che ne so io dove la tua dignità? Mario Esci la mia dignità Marco non... Mario dov'è la mia dignità? Non vedo come possa essere possibile che la tua dignità si trovi all'interno della mia camera Marco Ma che cazzo vuol dire che mi fai così se non sei manco inquadrato in faccia? Rincoglionito Ah vabbè il dito medio mentre chiude la tenda Bravo bro Si vede proprio che sei nato nel 1989 1989 Quello che hai fatto in questa camera non ha avuto senso Non ha avuto senso Comunque Garbero bene è veramente ridicolo Questo è quello che penso Questo è quello che penso Non ha avuto senso Io non ho avuto senso Non ha avuto senso